E per reaccionare e mescolare per noi per conversare, arriva differente, un altro punto di aviazione, noi stiamo in studio, ora è vivo, il ministro Charles Cooper. Signor Cooper, un felice notte, buon minuto con noi. Felice notte. Però anche altre cose, lo che noi abbiamo ascoltato qui non sta parlando di che un vendedor di compagnia contraria, del caso qui non è complicato, la verità? Buon, chiaro che non, ma non è un ministro, è un ministro, è parte anche di tráfico aereo, e lo qual è che abbiamo garantito la sicurezza nel momento di passaggiare, il cliente che si compra in qualche aerolini, quindi porta qualche unico di corso, come porta, per esempio, DAE, porta incelera, porta DV, tutto. Quindi, lo qual è che sta passata, e mi chiede che il repubblico è stato testigo di la falda di respeto di signor Ramis, con questa attitudine che mi viene qui, fuori di aeropostale, che è stata donna di già, e questa chiede che è per passare, arriva a Turende. E, in tutto caso, a me come mandatario, non ti permetti, in maniera che burla di autorità, non ti permetti, in maniera che, l'acqua non ci permette di rispetto che il repubblico e la trattata di mirare, ora. e con noi abbiamo regolamenti di nostra comunità, abbiamo raggiunto il passato che non è vigente, non è il nostro concepto, è vigente, ora che viene un altro, quindi è regolamento, è il tempo di fondo del signor Francisco, del departamento di tráfico aereo, viene con le regolamenti, fa assine, se non ha un aerolienico matare il altro, allora se non ha avuto un altro, ora è un gruppo di un bandana, invece si porta un bandana e adesso è la mia regolamenti, ora che hanno competenza in gusto, feroz, un gruppo di un ha avuto un, ora se non ha avuto un altro, ora è un gruppo di un altro, ora è solo in un paese, allora come mandato a questo, non abbiamo danno questo, quindi, a noi mandiamo, avuto in febrigare, ora ci sono riscate questo, sono anche di barbare un po' di prez, e prez minimo stipulati, quindi è una questione di poter creare un monopoli quindi noi abbiamo un'altra e la base che la BIS vuoi che non ti vedi a cumplire è la BIS che non vi accade in febriare, ora qui è la ragione di troppo di bolle che vedi a riberute, allora non è un problema, se non vuoi rispettare l'accordo che ci sono per l'anno passato o per l'anno passato non c'è problema, posso portare a questa e per il giudice o per il giudice un giudice di un'accordo entra in una legge quindi non c'è l'accordo perché non c'è l'accordo non c'è l'accordo ma c'è l'arrivo ma c'è l'arrivo con due cose come un segnale uno è parte di safety con il momento quando c'è l'arrivo di costa qui c'è l'arrivo ma c'è un'economica forcione un'economica forcione che ci sono in ogni momento autorità che mi autorità è come di me per quali i cifri che mi ha detto non mi cifri non ma c'è l'arrivo di un'economica 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 c'è l'arrivo di un'economica tra l'arrivo di un'economica c'è l'arrivo di un'economica c'è l'arrivo di un'economica ma c'è l'arrivo di un'economica ma c'è l'investigazione si è我說 è complètement il punto di un punto di un'economica tormenta non mi dip malfengono ma c'è l'assistit ora voi investigi non c'è l'arrivo di un'economica nella cosa io si è fortificato eri me per me passare a l'Ibiza che ora si è controllo che è parte ilegale è tempo che dimentica è parte ora che non ho contorno però ancora non c'è parte di hangar, eccetera e ora acaba Charles Cooper mi piace per me passare a l'Ibiza a controllare e ojalá che non è parte per me passare a l'Ibiza di mia autorità che mi piace per me passare che non è parte che non è parte ma non è parte che non è parte che è economica per me passare che è tutto in ogni momento per me si può dimostrare che c'è una cifra di sentito che la compagnia che è sano che non è 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 il prez costo di sentito E se non l'oubita che il Pueblo di Corso di 12 milioni di florini, che mi ha detto che il Pueblo di Corso di 12 milioni di florini di il Pueblo qui, in casa e le compagnie, e ora mi chiede a che dia il Pueblo di Corso di un depo di un sempre, se vuoi da base, da base, da base. Quindi qui non c'è nulla di quanto mi vende per inserire, inserire è un po' di più, la mia, se mi lavoro, è un po' di più, e ho capito, ma un costo di avere, con sicurezza, con tutte le cose. Ok, ora guarda qui, se non c'è, non c'è, qu'è la base? Ok, se non c'è, 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 c'è, ora mi chiede che quello è tutto quello che fa anche sul primo, non c'è� inский E c'è, non c'è ne sè provo di meno fbelo e c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non off formo solo un progetti, non c'è quello lui, ma passa più in lleva, non c'è… Sì, ok. Sì, ok.